Anche se a prima vista tutti i robot aspirapolvere possono sembrare simili, in realtà alcuni nascondono caratteristiche interessanti. Nel caso di Olli l'azienda Trifo ha ideato una serie di funzioni rivolte ai possessori di animali domestici, ma non solo. Infatti questo dispositivo è dotato di un'aspirazione maggiorata da 4000 Pascal e uno speciale accessorio per la pulizia privo di spazzole, particolarmente indicato per l'aspirazione del pelo degli animali o dei capelli. Oltre ciò include un filtro EPA e uno i carboni attivi in grado di catturare gli allergeni ed eliminare i cattivi odori. All'interno della confezione sono presenti oltre al robot aspirapolvere Trifo Olli, la stazione di ricarica, un puntatore laser estraibile con batteria inclusa, tre dedoranti stick, il già citato accessorio aggiuntivo per l'aspirazione dei peli degli animali o capelli, garanzia e manuale. Trifo Olli si presenta con un design gradevole caratterizzato dai colori nero ed oro dello sportello superiore che nasconde un contenitore per la polvere da 600 ml, il led di stato del wifi e il tasto reset. Pesa circa 5,5 kg, le sue dimensioni sono di 36 x 36 x 8,4 cm ed è realizzato quasi interamente in policarbonato, una scelta che è sicuramente stata adottata per garantire l'ottimo rapporto qualità prezzo. Nella parte sottostante sono installate la spazzola intercambiabile e quella per i bordi, le due ruote motrici e quella girevole. Troviamo ancora gli elementi magnetici per la ricarica e i sensori di dislivello anti caduta e in grado di rilevare l'altezza delle superfici per far sì che Olli possa salire sui tappeti senza problemi e pulirli al meglio aumentando automaticamente la potenza di aspirazione. Sulla parte superiore troviamo il pulsante home per far tornare Olli alla base ed il tasto accensione spegnimento che consente anche di avviare o interrompere il programma di pulizia. Nel profilo anteriore del robot è integrato un sensore di profondità per l'individuazione degli ostacoli e una videocamera HD a infrarossi per la visione notturna con una risoluzione di 1080p. Quest'ultima può essere utilizzata come sistema di videosorveglianza con tanto di sensore per il rilevamento del movimento in grado di effettuare brevi registrazioni e notificarle con un avviso via app al proprietario. Il sistema è dotato anche di audio bidirezionale atto ad ascoltare da remoto i rumori ambientali e comunicare al contempo con gli inquilini o gli animali presenti in casa. La stazione di ricarica invece è in linea con quelle della maggior parte dei robot aspirapolvere di questo tipo. Grazie alle sue dimensioni contenute può essere facilmente posizionata in casa facendo però attenzione a lasciare lo spazio di manovra per il robot come indicato. Tornando al robot la mappatura dell'appartamento avviene grazie alla tecnologia SLAM, localizzazione e mappatura simultanea in grado di effettuare misurazioni precise e massimizzare così le aree di pulizia. Inoltre grazie all'intelligenza artificiale Holly apprenderà dalla routine di pulizia giornaliera per ottimizzare la sua capacità di mappatura e diventare così sempre più efficiente. Durante le sessioni di pulizia all'occorrenza è possibile utilizzare il puntatore laser sia per profumare l'ambiente grazie alla possibilità di inserire al suo interno degli stick deodoranti sia per tenere impegnato il proprio animale domestico e allontanarlo così dal percorso del robot. Un simpatico accessorio aggiuntivo non indispensabile che può essere rimosso qualora non si ritenga necessario. Tra le altre caratteristiche segnalo la compatibilità con Alexa con cui al momento è possibile solo spegnerlo, accenderlo e le notifiche vocali anche in italiano, molto più comode dei classici e meno comprensibili segnali acustici. Il robot infatti all'occorrenza ci comunicherà parlando in perfetto italiano. Attraverso l'app Trifo Home è possibile effettuare una serie di operazioni così come gli aggiornamenti firmware, controllare le aree mappate, impostare programmi di pulizie e aree vetate, gestire la videocamera, individuare la posizione del robot e pilotarlo manualmente, verificare la cronologia delle pulizie, impostare la potenza di aspirazione. Presente anche la funzione per non disturbare durante le ore di riposo. Ma adesso rispondiamo alla domanda più importante di questa recensione, come pulisce Trifo Olli? A tal proposito posso ritenermi soddisfatto sia della copertura dell'area dell'appartamento che della capacità di pulizia, coadiugata dalla potenza di aspirazione rilevatasi piuttosto efficace. Anche il rilevamento degli ostacoli funziona molto bene, insomma Olli fa il suo calcolavoro. Buona anche la durata della batteria da 5200 mAh, circa 2 ore. Ad ogni modo, se il robot non sarà in grado di completare le operazioni di pulizia, tornerà alla base per ricaricarsi e ripartire in autonomia da dove aveva interrotto. Se proprio devo sollevare qualche appunto, riguarda l'assenza di un avviso quando la pattumiera è piena. Tuttavia, questo non è un grosso problema, poiché essendo piuttosto capiente, sarà necessario effettuare la verifica manuale sporadicamente. Più fastidioso, invece, il rumore continuo emesso dal robot quando è acceso, anche se non è in movimento, per cui sarà necessario posizionarlo in una stanza differente da quella dove si riposa o spegnerlo quando non in uso. Al momento è possibile acquistare Trifoli a circa 300€ su Amazon, applicando un coupon sconto di 50€ direttamente sulla pagina del prodotto.